bella ragazzi dopo l'ultimo video di ieri di clash royale dove abbiamo visto il deck con la fuorilegge maxata insomma le truppe che andavano giocate sul ponte vi invito ad andare a vederlo se non lo avete ancora fatto oggi torniamo con una delle sfide più particolari di clash royale una di quelle sfide che stravolge completamente il meta sto parlando ovviamente della sfida mega touchdown per chi non la conosce non ci sono le torri ci sono solo due linee alle parti opposte del campo e nel momento in cui una tua truppa sorpassa la linea dell'avversario hai fatto un punto questo è il deck che io ho preparato per voi voglio darvi due consigli velocissimi prima di partire c'è la possibilità di fare ovviamente il deck random ma rischiate di perdere un sacco di tempo e un sacco di partite perché non avete le truppe giuste per counterare io vi consiglio due truppe per l'attacco una che è un tank in questo caso io ho messo il gigante e una veloce che in questo caso è la riete da battaglia utilizzate spesso carte che possano fare danno ad area e a distanza in questo caso la princess il drago giocate degli spell tenete sempre tronco e zap se volete anche la fireball non c'è problema una struttura in questo caso io ho messo la fornace perché se lui gioca delle truppe che loccano la struttura se non avete modo di deviarle rischiate di non avere proprio il tempo fisico di fermarle e poi tutte le altre truppe per la difesa e più o meno per quello che vi pensate possa aiutare il vostro tank in questo caso io ho giocato una princess ho giocato un arciere magico sono comodissimi o come vi già vi dicevo la zap la valkyrie al mini pecca e la strega vi consiglio di utilizzare anche il fantasma come state vedendo io l'ho già inserito perché è una truppa molto molto infame in questa modalità andiamo a provarlo subito tilek del clan kneb round one si può partire tranquillamente anche con un golen del ghiaccio da dietro non c'è nessuna fretta io gioco sempre laterale non giocate non giocate centrale subito vedi quella è una delle truppe che potrebbe dar fastidio ad esempio noi andiamo a counterarla con la nostra fornace attenzione perché abbiamo l'arciere magico che potrebbe dar fastidio e in questo caso cominciamo anche noi ad infastidire a sua volta arciere magico che locca il mio ariete noi abbiamo il mini pecca che lo può togliere ariete che non può essere loccato dalla torre ed ecola qui la zap che vi dicevo per eventualmente aiutare le truppe a liberarsi lui è obbligato ad andare a counterare come vedete in una maniera abbastanza importante di nuovo ariete per lui qui andiamo subito a cercare di fermare l'arieta attenzione però attenzione perché il suo mega sgherro riesce a passare sopra la mia princess per un colpo il mega sgherro non è andato giù non è un problema non è un problema si riparte subito belli aggressivi in attacco non spaventatevi se perdete per caso un se prendete un punto non è un problema ecco qui intanto il nostro principe che può dare fastidio vediamo se riesce si è stato loccato purtroppo dai suoi sgherri fatto abbastanza male arciere magico ancora tronco e fornace per evitare qualsiasi problema partiamo con il gigante a sinistra supportato proprio dalla fornace e in questo caso anche dalla strega pronto metterlo in crisi con una rete da battaglia centrale attenzione la sua valchiria si va si va si va strega dietro strega a peccato che la rete da battaglia è stato deviato sotto con la zap per togliere tutto vedete il gigante va per i fatti suoi lui non ha truppe e noi riusciamo a passare la linea non ha torri scusatemi non ha strutture uno a uno è ancora tutto aperto adesso lui potrebbe cadere nel panico e giocare truppe a caso ce lo auguriamo princess leggermente più centrale gigante per lui subito il valchirione a lei da battaglia vuole partire aggressivo immaginavo strega un elettrico per fermare tutto dobbiamo fermare dobbiamo fermare dobbiamo fermare immediatamente molto bene molto bene arciere magico leggermente spostato la valchiria davanti che tanca e l'arciere magico insieme alla princess che tolgono come vi dicevo il le sue truppe che colpiscono da una distanza un pochettino più alta lui deve andare a counterare in qualche modo c'è il fantasma da solo non lo riesce a fermare possiamo ripartire tranquillamente mica tanto tranquillamente però ci proviamo gigante di nuovo peccato per il fantasma che si è dovuto arrendere alla valchiria strega di nuovo dietro a rita la battaglia se lui gioca la torre inferno è rovinato la gioca la gioca la giocare della battaglia che va a rita la battaglia che va è qui un disastro bellissima giocata invece con gli scheletrini infamissima come giocata molto bravo abbiamo la strega con un'altra un'altra truppa molto interessante in questa modalità è proprio la strega perché comunque spona gli scheletrini e quindi guardate quello che succede basta solo che uno scheletrino passa la linea e quindi vinciamo deck molto interessante come state vedendo la prima è andata diciamone ancora un paio recuperiamoci subito un bel millino di gold e avanti ancora fidatevi ragazzi la sfida touchdown è davvero divertente ma se non avete il deck giusto diventa snervante io mi sono arrabbiato tantissimo anche con le altre sfide che hanno fatto subito il fantasma lo giochiamo aggressive con dietro l'arciere magico tra l'altro vi dico un'altra cosa è molto probabile che troviate gente che non ci ha sbatta di fare i deck in questo caso lui sta giocando con le truppe al 7 attenzione perfetto semplicità con terra è molto bene legato non aver avuto le truppe necessarie per fermare il il suo attacco sul mio gigante serve il drago subito dai togli mi gli scheletrini drago fornace deve andare a impattare sul mio spiritello del fuoco non lo fa ma non è un problema no zap fondamentale qui principe nero siamo riusciti un attimo a salvarci in extremis attenzione congeliamo un attimo il suo giant serve subito davanti il fantasma andiamo per forza attaccarlo in tutti i modi fermiamo il giant molto bene ripartiamo 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 qui ci ficchiamo dentro un valkirione perfetto 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 perderemo qua la princess ovviamente ma c'è la strega che ci può aiutare sul suo drago ok ci siamo un attimo ripresi attenzione perché lui ha giocato il l'arco sfruttiamo il nostro arciere interessante questa fireball peccato che l'abbia missata possiamo in qualche modo andare a deviare anche l'attacco del bocciatore e sfruttare di nuovo l'arciere magico in modo che non verrà locato c'è un mini pecca la sotto attenzione lo deviamo un secondo subito il nostro stregone elettrico che salva il mini pecca ripartiamo con una fornace qua siamo noi all'attacco voglio solo farvi notare quante it ha tirato il nostro arciere magico e quante ne sta continuando a tirare strega che è messa sotto attacco attenzione al suo golem quello è un problema quello è un grande problema dimmi che non ha truppe per il miner let's go let's go let's go non aveva truppe per il miner molto bene 17 secondi allo stop si è giocato tutto sul golem come vedete non aveva truppe per counterare il miner lui va subito si arrende andiamo a scaricare il suo arco e tanta tanta roba andiamo a vincere anche questa due su due nice 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 recuperiamoci ancora qualche ricompensa 100 barbari apriamo anche il premio del livello 21 sono 10.000 di gold più un baule bello questo 10.000 di gold sempre bello il gold 1314 di gold 3 gemme 15 jolly 6 spiriti del ghiaccio 6 palle di neve 58 goblin dentro ancora nella touchdown oi ragazzi scrivetemi qua sotto nei commenti se vi piace il mio deck per la sfida touchdown se siete riusciti a vincerla e se vi piace il video lasciate un bel pollicione dai ragazzi che ci tengo dai arciere magico possiamo mi serve capire un attimo cosa vogliamo fare il mini pack questo è uno che ha già capito questo sa giocare abbiamo rischiato tantissimo qua con questa princess bravo ciao da che anche lui ciao da che anche lui bravo ci sta ci sta guarda giant ma guarda giant ma guarda giant ma guarda giant per un millimetro allora piano 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 perché questo adesso è arrabbiato a mille golem del ghiaccio centrale non stiamo ok porco via la princess bello quello dobbiamo ghiacciare ci frega ci frega ci frega con l'esplosione urgo ci frega con l'esplosione ok allora il barile d'ossa io non lo uso quasi mai perché ve la countera bene troppo facilmente ma se ti arriva sotto nel momento in cui lui esplode e rilascia gli scheletrini se gli scheletrini sono dall'altra parte del della linea perdi come avete appena visto partiamo 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 questa è una bella partita ragazzi la riete non ha strutture let's go let's go non aveva strutture ne ha una sola ok ragioniamo sul suo barile d'ossa ok gigante io golem lui c'è il magico che può fermare zap strega sul suo golem se non la valchiria si che riusciamo si che riusciamo molto bene drago la valchiria va fermata giochiamo una valchiria non è un problema princess via bisogna stoppare subito ecco qua questa è una giocata giusta stopparlo così è giusto perfetto possiamo ripartire abbiamo riaperto abbiamo riaperto andiamo 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 ripetiamo la difesa con i mascalzoni ci sono tre truppe che possono andare lì esplode il suo mago e con il mio mago elettrico let's go possiamo entrare devastanti e vincere la terza partita di fila insomma ragazzi io spero che il mio deck per la touchdown royal la mega touchdown vi sia piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su un commento qui sotto ci tengo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video di clash royale ciao 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 Grazie per la visione!